Inverno, novembre, Corso Vannucci, sto rientrando a casa, ore 23, Salvar, Paolino, mi chiamo. Erano le 11 di sera, facevamo un freddo boia. Mi fa, dice, beviamoci un bicchiere. Paolino, sono le 11, beviamoci un bicchiere. E ci beviamo un bicchiere. E mi dice, e le elezioni in Egitto? Si comincia a ragionare le elezioni in Egitto. I fratelli musulmani sono messi bene, era il periodo della primavera araba. Però è complicato lo scenario, l'Egitto è un paese difficile. E va avanti. E le elezioni in Uganda? L'Africa dell'Est la conosco poco. Però Musaveni, gli dico, sta in una situazione un po' critica, perché lo sviluppo economico in Uganda non c'è. Però quello che sta a succedere alle elezioni, sinceramente non so di dire una parola, perché non lo so quello che sta a succedere in Uganda. Lui si è fermo e mi guarda e mi dice, ma siamo sicuri che ci sono elezioni in Uganda? Cioè, mitico, Paolino. Quella è l'ultima volta che l'ho visto. Festival del mondo in comune, un'iniziativa che Tamat sta realizzando in Umbria dal 2 giugno, che terminerà il 9 giugno la fase centrale di attività, un'iniziativa finanziata dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, che è una struttura a rete dove sono coinvolte la regione dell'Umbria, l'Anci, l'Associazione dei Comuni, vari comuni dell'Umbria, da Assisi a Marciano, a San Giustino, a Foligno, a Dorvieto, le due università di Perugia e una serie di associazioni, grandi e piccole, della nostra regione. L'obiettivo di questo festival è quello di rilanciare il dibattito sui temi legati alla cooperazione internazionale e lo facciamo con seminari, conferenze, iniziative, ma anche momenti di arte. Nel programma abbiamo previsto numerosi interventi di artisti, avendo lanciato una call a favore degli artisti, che hanno esposto le loro opere il weekend passato a San Pietro, a Perugia, e li stanno esponendo attualmente a Foligno. Abbiamo prodotto un spettacolo teatrale nella memoria di Thomas Agarà, il presidente del Burkina Faso, nel quale viene ripercorsa la sua storia, vengono trattati temi di attualità come quelli dell'accoglienza, del metissage delle seconde generazioni di migranti in Italia. Questa sera siamo qui perché all'interno del festival noi abbiamo lanciato l'iniziativa La Borsa di Studio Paolo Vinti. La Borsa di Studio Paolo Vinti è nel quadro di un'attività del festival che abbiamo fatto insieme al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, degli studi di Perugia, dove Tamatto ha organizzato insieme alla professoressa Favalli un laboratorio per gli studenti di Scienze Politiche e di Cooperazione Internazionale e i due studenti più meritevoli che saranno questa sera con noi hanno svolto un periodo di stage in Burkina Faso nel nostro progetto. Noi ci abbiamo tenuto a dedicare questa Borsa di Studio a Paolo Vinti, che era un nostro amico, un amico di Temat, un giornalista, un poeta, un uomo del mondo, ci piace definirlo, che aveva una spiccata sensibilità sui temi dell'internazionalizzazione e della cooperazione. Quindi ci è sembrato giusto ricordarlo in questa occasione e rinverdire la sua figura all'interno del nostro festival. Il progetto nasce all'interno di un laboratorio svoltosi in università con la professoressa Lida Favalli e appunto riguarda la cooperazione, la progettazione. La Borsa di Studio vinta da noi al termine di questo laboratorio, dedicata a Paolo Vinti, ci ha permesso di andare un mese, 35 giorni, in Burkina Faso, nella capitale Ouagadougou, in cui abbiamo potuto seguire le fasi del progetto RASAD, un progetto appunto gestito da TAMAT e ONG di Perugia. E niente, in questa esperienza in Burkina Faso abbiamo potuto andare nei villaggi direttamente a vedere in prima persona dove avviene l'erogazione del microcredito e quindi verificare di prima persona come i soldi del microcredito vengono utilizzati dalle persone sia in zona rurale, quindi nei villaggi di Lao, Kubri, Komsilga, Luxi e nel quartiere urbano di Sissene, in cui appunto vi è anche una maison della fama, in cui si lavora per l'inclusione sociale della donna all'interno della società Burkina B e in cui vi è pure un ristorante all'interno del quale vengono fatte attività di sensibilizzazione e di sicurezza alimentare. E quindi noi all'interno di questo progetto, oltre a vedere in prima persona quindi passare dall'atto teorico all'atto pratico della cooperazione appunto dei banchi universitari fino a vedere personalmente il progetto, abbiamo anche svolto una piccola ricerca per quanto riguarda l'empowerment femminile della donna all'interno della società Burkina B e appunto cercare di verificare, valutare pure gli effetti che le donne, gli effetti del microcredito sulla vita quotidiana di tutti i giorni delle donne, come è cambiata la loro situazione, il loro stile di vita, il rapporto con la famiglia e il padre e quindi questa è stata la parte più interessante in assoluto dell'esperienza chiaramente perché ci ha permesso di vedere in primis innanzitutto la società africana quindi che sicuramente è una società molto diversa culturalmente rispetto alla società in cui siamo abituati a vivere quotidianamente in Italia ed è stato sicuramente un modo anche per fare esperienza in prima persona sul campo e valutare effettivamente gli effetti che i progetti di cooperazione hanno sulla società e niente, questa è stata un po' l'esperienza che abbiamo avuto, assolutamente positiva e anche per quanto riguarda il rapporto con le persone locali sono stati tutti molto, sono estremamente, una società comunque molto ospitale, tranquilla ed accogliente in cui non abbiamo mai avuto assolutamente nessun problema di alcun tipo anzi, è stato bello secondo me vedere l'accoglienza che questi davano comunque anche in contesti che ne so, al bar, al ristorante perché è molto facile entrare in contatto con la gente semplicemente da un buongiorno, buonasera, ci si può sedere tranquillamente al tavolo per discutere del più e del meno, di qualsiasi faccenda e quindi è stata sicuramente la parte, anche la parte umana ha avuto un valore molto importante all'interno del progetto ed è stata sicuramente la cosa più gratificante La nostra ricerca sull'empowerment di genere che abbiamo visto e abbiamo potuto osservare che è stato ottenuto attraverso il microcredito, soprattutto elargito alle donne del quartiere di Sissena, Ouagadougou e anche nelle zone rurali, si è concentrata più che altro sul fatto di cercare di capire il beneficio all'interno della famiglia che queste donne apportano appunto, cioè se attraverso questo microcredito hanno ottenuto più rispetto a livello familiare se fossero considerate di più a livello familiare, comunque il Burkino è una società fortemente patriarcale, con la maggior parte delle società africane e quindi abbiamo cercato di capire se questo microcredito migliorava la posizione della donna all'interno della famiglia La risposta è stata sì, però anche quello che viene fuori dalla nostra ricerca è ma sì come? Cioè questo beneficio è un beneficio economico, quindi il miglioramento è soltanto dal punto di vista economico ma manca il miglioramento sociale oppure è un primo passo per un futuro miglioramento sociale? Questa è un po' la nostra domanda, qui non abbiamo ancora ottenuto risposta e che apre un po' le porte anche a una possibile futura ricerca. Comunque possiamo osservare che attraverso gli interventi di Rasa e Rasad, il primo e il secondo progetto di Camat, comunque le donne beneficiari del microcredito hanno potuto essere indipendenti almeno economicamente dalle proprie famiglie. Ciò ha anche apportato un sostanziale cambiamento nel nucleo familiare e diventano anche a volte, soprattutto in caso di nuclei familiari molto ampli o con un marito indisposto a lavorare, diventano il pilastro portante dell'unità familiare appunto. Quindi abbiamo potuto osservare questi cambiamenti e abbiamo potuto anche sperimentare cosa significa essere in una società completamente diversa dalla nostra. Un'esperienza in Africa non è una cosa di tutti i giorni e soprattutto quando si è studenti universitari. Quindi abbiamo potuto osservare un po' cosa significa la cooperazione, essendo il nostro sbocco lavorativo futuro. Quindi questa esperienza ci ha aperto le porte alla cooperazione e abbiamo deciso che continueremo sicuramente su questo percorso. Per me è un onore venire qui a presentare Paolo Vinti che insieme a un altro perugino Dino Frisullo è stato un punto di riferimento importante per il movimento pacifista nazionale e per l'internazionalismo. Ho conosciuto Paolo così come Dino dentro inizialmente all'esperienza di democrazia proletaria e poi più avanti nelle iniziative che si sviluppavano in questa regione per la pace, per la solidarietà internazionale al fianco delle lotte del movimento operaio e in particolar modo era molto curioso di sapere da me i miei lunghi viaggi che facevo in Messico con l'esperienza zapatista. Paolo era una persona del tutto estroversa, i perugini lo conoscono meglio di me ovviamente, conoscono quel suo carattere anarchico, indisciplinato ma anche questa sua capacità di vedere il mondo, il cosmo rosso, di guardare oltre le barriere, le frontiere, questa idea positiva che la rivoluzione è in cammino nonostante le tante sconfitte. Di Paolo rimane questo lascito di un irriducibile, di un mondo nuovo che andava costruito con le relazioni umane, con il sorriso, con l'ironia, con la capacità di sapere lottare. Io attualmente sono vicepresidente di Un Ponte Pere, un'organizzazione che si occupa di Iraq, della guerra permanente e tante volte ho avuto modo di discutere con Paolo proprio di questo, della strategia che il Bush prima e il Bush secondo hanno portato, della guerra permanente, dello sdoganamento della guerra come nelle relazioni internazionali, nelle relazioni umane e come era necessario contrapporre a questa cultura distruttiva una cultura della solidarietà, una cultura della non violenza intesa come cultura rivoluzionaria, come gestione altra del conflitto. Penso che le straordinarie mobilitazioni che ci avevano accompagnato con la grande manifestazione che tenemmo a Roma con milioni di persone che chiedevano di fermare la guerra. Ecco, per averla organizzata, per aver contribuito a organizzarla mi sono guadagnato l'appellativo da parte di Paolo, di quella che dedicava i compagni a lui più chiari, il leggendario compagno Alfio Nicotra. Ma insomma di leggendario c'è ben poco, semmai è la storia di Paolo che credo che ormai sia iscritta nella leggenda. Io sono Simone Akulma, coordinatore dell'associazione ISSV del Burkina Faso, partner storico della ONG Perugina Tamat. Nel quadro del Festival del Mondo in Comune l'obiettivo è quello di condividere momenti di riflessione e della gioia di vivere africana con i nostri partner italiani, non soltanto con Tamat ma anche con il mondo dell'associazionismo e delle altre ONG Umbre, per valorizzare l'esperienza del progetto RASAD che insieme a Tamat stiamo realizzando in Burkina Faso, progetto finanziato dall'Agenzia della Cooperazione Italiana allo sviluppo. È un'esperienza positiva perché in questi giorni ci sono molteplici scambi con il mondo dell'università, con il mondo dell'associazionismo ma anche con il mondo della diaspora africana in Umbria e questo è il modo migliore per confrontarci, per conoscere come vive la diaspora qui e per fargli un rendiconto di com'è oggi la vita in Africa e questo è il modo migliore per andare verso la direzione di un mondo migliore. Noi siamo in una fase cruciale nel nostro mondo e questo tipo di incontri sono importanti, sono fondamentali per capire e studiare insieme che cos'è l'integrazione, che cos'è il metissage, confrontarci, valutare le luci e le ombre per marciare comunque verso un mondo migliore. Durante questa missione in Italia ho avuto anche l'opportunità di ragionare con gli esperti di Tamat per fare il punto dello stato dell'arte del progetto che stiamo realizzando sul campo perché è un momento di riflessione fuori dalle dinamiche di tutti i giorni, è importante per sviluppare al meglio le iniziative e per rimettere a fuoco ombre che eventualmente sul campo, standoci tutti i giorni, non vengono messe a fuoco. E ti chiedo a dire a tutti, grazie. Grazie. Sono Jérôme Zangré, vice sindaco di Gubri, una città alle porte della capitale del Burkina Faso, sono qui nel quadro del Festival del Mondo in Comune, noi collaboriamo al progetto Rasa insieme all'ONG Tamat e i CSV. L'aspetto che maggiormente interessa durante questa visita è quello di capire quali possono essere gli sviluppi e le dimensioni di un turismo rurale ma non solo nell'area dove faccio il vice sindaco. ha più di un titolo e ci permette di avere un'uvertura d'esplice per vedere come potremmo progettare dei progetti turistici a livello della nostra comunità di Gubri. Durante questo soggiorno ha visitato molte associazioni ma soprattutto molti siti, Perugia, Foligno, Marciano e questo gli ha permesso di allacciare nuovi rapporti, conoscere nuove realtà, una mescolanza di esperienze che rafforzerà il senso di cooperazione con il territorio italiano, con le realtà italiane. C'è per dire che questo passaggio culturale e questo passaggio tra i collaboratori del progetto Tamat ci rafforzano molto e ci rafforzano delle porte per collaborare meglio con noi.